Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto in via Roma, nei pressi del circolo ufficiale della Marina Militare di Taranto. Ero andato con il mio operatore video ad un incontro, a un convegno sul futuro di Taranto, problematiche ambientali e quant'altro, ma lasciamo perdere questo e di ritorno per poco non sono caduto in questa voragine, in questa voragine a cielo aperto, in questa buca profonda, che è presente sul marciapiede, un marciapiede completamente dissestato, ricoperto di mattoni, suppongo di marmo. Vedete, sono emersi i ferri, li chiamo così impropriamente sottostanti, i mattoni. C'è un baratro, c'è una voragine, guardate si può tranquillamente cadere dentro e se cade un giovane può anche salvarsi, ma immaginate un anziano. Questa situazione si protrae da mesi e mesi, pare, pare, ci informeremo meglio che la competenza sia del demanio militare, della Marina Militare, ma di chiunque sia la responsabilità c'è una colpa, diciamo invigilando da parte del Comune, se non è di competenza comunale, perché comunque un vigilare deve comunque esistere e sussistere, e c'è, se ripeto, sottolineo se la competenza è della Marina, le responsabilità della Marina Militare, del demanio militare. Ma al di là delle competenze che pure vanno appurate, guardate, non è possibile che in pieno centro noi ci troviamo in una strada che è diventata praticamente una gruviera, tra buche presenti sul manto stradale, ma ancora più grave è questa situazione. Qui vediamo talvolta giovani ragazzi che fanno jogging, corrono, ma ci sono anche gli anziani che fanno due passi e rischiano di rompersi un femore. E poi si piange il malato e poi si piange il morto. Guardate, questa è Taranto, che piaccia o no, questa è una città di terzo mondo e che nessuno si scandalizzi.